Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnase Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Uno sguardo alle statali sulla stale Trebbisti Berina E45, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato nei tratti compresi tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nord, e tra Canili e Val Savignone, tutto in direzione sud. Ci spostiamo sulla SR70 della Consuma e ricordiamo che fino al 16 giugno, per lavori, il traffico è interdetto ai mezzi pesanti tra le località Palaie e Consuma. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri Trambia, segnaliamo domani, 23 aprile, lavori di asfaltatura in Via dello Statuto, Via Tavanti e Via Gianni. Le modifiche alla circolazione sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!